La vetrina di un'agenzia è il suo principale media di comunicazione, ottimizzare la visibilità locale della tua attività è il nostro obiettivo da oltre 15 anni. Vitrimmedia è il tuo partner per la comunicazione in vetrina grazie a pannelli luminosi led e monitor LCD di ultima generazione. Gioca sulla varietà dei contenuti, incarichi, applicazioni e video corporate per valorizzare la tua identità. Conosci la nostra gamma Visible? Delle soluzioni digitali specialmente sviluppate per la tua attività. Per esempio il software Visible Display ti permette di gestire la diffusione dei tuoi incarichi direttamente sul monitor della tua vetrina. Con queste soluzioni Vitrimmedia ha l'obiettivo di accompagnarti nello sviluppo del tuo business.